Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 14 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Finalmente tutto chiaro. La sesta casa, la stacca novista, oggi si perde un elemento importante, Marte che si incammina verso Plutone, il Sole e Mercurio, già all'opposizione. A vostro favore sul fronte lavorativo restano la creatività, la sensibilità nel trattare il pubblico e l'innato buon gusto. Ma le idee illuminanti, l'onestà e la sincerità, ora si riversano tutte sul lato sentimentale. Al centro dei vostri pensieri il partner, con i suoi talenti e i suoi problemi e se ancora non c'è, la speranza di incontrarlo presto, proprio la persona tagliata su misura per voi. In ogni caso, imbarba alla cattiva fama di egocentrici dello zodiaco, degli altri in genere vi preoccupate parecchio, non solo del loro giudizio e della loro approvazione, ma anche del loro benessere, quando la società sta bene, è forte, sicura e serena, anche il singolo lo diviene. Il formicaio è composto da tante formiche e tutte con il loro operato concorrono al benessere comune. Tentazioni nella coppia per rivali o per ex partner che si riaffacciano alla ribalta, qualcuno potrebbe attirare presto la vostra attenzione e tentarvi. I singoli incontreranno persone interessanti ma nel mentre potrebbero essere attratti da altri. Intorno a voi c'è una persona che vi vuole bene in gran segreto e fa di tutto per non far bene accorgere. Ma non è solo timidezza ma anche il vostro atteggiamento a tenerlo lontano. Buone nuove in arrivo per email o per sms. Vecchie situazioni trovano soluzioni ordinate e favorevoli. Sul lavoro non siate invadente nei ruoli altrui. Bene lo studio. Oggi potrai abbandonarti all'amore ed avrai un'ottima intesa con la persona amata che ti dimostrerà sincerità di sentimenti. Nel settore delle amicizie, farai nuove conoscenze. Un consiglio, cerca di avere più fiducia in te stesso. Fate molto attenzione alle voce che girano sul vostro conto, cercate di smentirle al più presto se non volete noie e disagi. Qualcuno vi osserva. Non adagiatevi sulle vittorie del passato, sarete chiamate a dare prova del vostro coraggio e delle vostre capacità. Buon per voi se saprete, e con decisione, recidere ogni legame con il passato. E questo doppio, pericoloso, legame con quello che è stato un tempo che non vi consente di risolvere i problemi del presente. Guardate sempre avanti e non lamentatevi di quello che vi accade con gli altri. Se volete risparmiarvi con passioni inutili e critiche evitate oggi di confidarvi con persone di cui non vi fidate ciecamente. Oggi impegnatevi in special modo sul lavoro o se ne state cercando non fate in modo da bussare a tutte le porte, non vi mancheranno le occasioni giuste ma dovrete fare in modo di conquistarvele. Oggi non è una buona giornata per chiedere prestiti o aiuti agli amici e ai parenti. Meglio lasciar passare, se potete, un buon margine di tempo e assicurarvi che nulla resti in tenattà o per risolvere un vostro problema. Buone indicazioni dei numi celesti si riflettono oggi in ambito familiare, amicale e nel settore delle nuove conoscenze. In particolare, se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 23 di agosto, la Luna, costantemente amica, è la vostra magica lampada di Aladino, che può schiudervi sempre nuove sorprese allargando gli spazi d'azione, rinnovando ciò che non vi convince da tempo, dandovi l'occasione di prendere in mano iniziative fortunate, specialmente nel settore professionale. Mercoledì grasso urticante e non solo per via della farina, della schiuma, o quant'altro qualcuno vi tirerà addosso, scatenando una sdegnata reazione di lesa maestà. Contro di voi, infatti, remano il sole acquariano, accompagnato da Mercurio polemico e da oggi anche da Marte battagliero, già pronto ad affrontarvi con un incontro di pugilato. Telecronista la Luna arietina battagliera intrigono, se siete in viaggio, peggio al volante, guardatevi da chi avete di fronte. Amore ed Eros. Tutto bene se amore e lavoro viaggiano a braccetto, o meglio, se col collega c'è del tenero ed è libero. In caso contrario se i cuori sono occupati sul vostro cielo si addensano nubi temporalesche, un chiarimento si rende necessario, ma prima di far scoppiare il bubone, pensateci due volte. Momento di metà febbraio abbastanza positivo da un punto di vista sentimentale per voi grazie a una bella luna in angolo benefico dal segno dell'Ariete. Urano continua a osteggiarvi, è vero, ma solo per provocarvi, soltanto per darvi l'occasione di mettervi alla prova. Una nuova relazione d'amore vi sta facendo infatti impegnare, vi spinge a non fermarvi e a proseguire, anche se alcuni ostacoli e impedimenti vi si frappongono. Questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Lavoro e denaro. Benino il lavoro, sia in proprio sia in azienda. Un po' più ostiche le trattative, ma anche qui, dopo l'iniziale titubanza, si procede spediti verso la risoluzione e la firma. Notizie da lontano, ciò che succede nel mondo vi mette ansia, ma non potete fare a meno di ascoltare la prima edizione del TG, davanti alla quale siete tutto orecchie. Quanto vi mancano i bi e i viaggi che facevate. Una fase lavorativa complicata vi induce a trovare ristoro nella vista di un film. Qual è il classico per il quale dedicare pomeriggio o serata in relax? Ideale, se non lo avete ancora visto, la mia Africa di Sydney Pollack del 1985, con Meryl Streep e Robert Redford, appartenente quest'ultimo attore proprio al leone. Benessere. Occhi stanchi e un filo di tosse, qui squiglia rispetto a grossi mali che affliggono tanta gente, perciò sentitevi fortunati e grati al destino, bellezza e benessere abitano al vostro indirizzo. Per lei, incredibile ma vero, il vostro lui è geloso delle coccole che riservate al quattro zampe e al rapporto speciale che vi lega al vostro cane o al vostro gatto. Ma se questi sono i chiari di luna che vi aspettano, tanto vale salutarsi da buoni amici, Otello non fa per voi. Per lui, confronto a quattro chi con il socio, il lavoro procede bene ma c'è ancora molto da chiarire, quantificare, progettare. È presto per cantare vittoria, ne avete di strada da fare. Colore delle emozioni, giallo limone. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 6, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie.